Ciao a tutti e bentrovati in un nuovo video dedicato al laboratorio di strategie di trading. In un precedente video ti avevo dato dei settaggi per configurare la piattaforma per andare a testare la strategia. Quindi ti avevo lasciato come compito quello di fare dei test. Oggi andremo a vedere nel dettaglio tutta la strategia e andremo a fare insieme alla fine un confronto finale su quelli che sono stati i risultati. In particolare per questa strategia andremo a vedere insieme quello che è l'approccio che sta alla base dell'idea di questa strategia, quindi come è nata. Poi andremo a vedere chiaramente quelli che sono gli indicatori, i criteri di ingresso ed uscita, la gestione del rischio del capitale. E poi concluderemo con il nostro test che voi da casa potrete confrontare con quella che è stata la vostra lista di titoli e avere quindi un confronto con i risultati finali della strategia. E spostiamoci subito in piattaforma dove andiamo a parlare di quello che è l'approccio della strategia. Quindi quello che volevamo cercare in questo caso da questa strategia, da questo approccio, era un approccio di breakout, quindi volevamo un break sostanzialmente di che cosa? Della volatilità e ovviamente anche dei massimi precedenti. Quindi come sapete i breakout ce ne sono tantissimi, il breakout vuol dire rompere a rialzo o a ribasso chiaramente quelli che sono magari i massimi precedenti. In questo caso ci sono mille movimenti di questo tipo, abbiamo ovviamente bisogno di alcuni filtri per dare un maggiore valore statistico a questi breakout. Di conseguenza abbiamo scelto di lavorare proprio su una strategia non che prendesse un intero trend o cercasse di comprare i minimi di un qualche tipo di movimento, ma semplicemente una rottura e poi un allungo, quindi un'esplosione, un'accelerazione di momentum, quindi dei prezzi, per andare appunto a fare il nostro profitto. Quindi abbiamo lavorato, abbiamo scelto di lavorare su un time frame multi day, scegliendo un'operatività solamente long e il perché dello scegliere l'operatività solamente long faremo poi una piccola nota verso la fine. Quindi l'approccio della strategia è un breakout di volatilità basato appunto su un time frame puramente giornaliero con un'operatività solo long, quindi solo comprare azioni e vendere ad un prezzo superiore. Perfetto, abbiamo visto adesso quello che è l'approccio alla base della strategia, quindi che lavoriamo solamente in direzione long eccetera. Adesso andiamo a concentrarci invece su quelli che sono i filtri della strategia, quindi gli indicatori che abbiamo utilizzato per filtrare i breakout dei prezzi, perché come abbiamo visto appunto non sono tutti validi. Quindi torniamo nella nostra piattaforma e andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sono appunto gli indicatori. Andiamo a fare un pochettino di zoom in mezzo al grafico e ti mostro quelli che sono appunto gli indicatori. Abbiamo come se conosci un pochettino sul grafico abbiamo scelto di usare le bande di Bollinger che sono l'indicatore principe per quanto riguarda appunto sia l'analisi di volatilità e ovviamente anche di breakout. Sono usate veramente in tantissimi modi ma ovviamente uno dei modi migliori per cui Bollinger specifica di lavorare è proprio questo che vedrete in questo tipo di approccio molto molto semplice. Abbiamo due bande di Bollinger, quindi abbiamo una banda di Bollinger sempre con il periodo a 20 per cui la media mobile di base è settata a 20 ma lo scarto è settato a una sola deviazione standard. Ovviamente io ho colorato appunto le barre, le bande superiori di Bollinger in verde e quelle inferiori in rosso. L'altro indicatore sempre quindi nuovamente aggiungiamo un'altra banda di Bollinger sul grafico e il secondo invece sarà settato sempre con media mobile a 20 periodi e la deviazione standard sarà settata appunto a due periodi. Quindi questi sono gli indicatori, in realtà è un indicatore soltanto ma con due settaggi diverso. Quindi rivediamolo, banda di Bollinger a 20 con la media mobile a 20 con deviazione standard 1 e banda di Bollinger settata come sempre a 20 con deviazione standard 2 sovrapposte. Quindi come potete vedere chiaramente dal grafico avete due bande di Bollinger con dello spazio che intercorre appunto tra l'area appunto della banda 1 e l'area della banda 2. Ok? Quindi questi sono gli indicatori della strategia. Quindi in questo momento noi abbiamo visto nel dettaglio quelli che sono gli indicatori e adesso ovviamente ci dovremmo andare a focalizzare su quelli che sono invece i criteri di ingresso e i criteri di uscita per capire appunto quando entrare e quando uscire. Perché ogni strategia ovviamente deve avere un piano di trading. Quindi spostiamoci nuovamente in piattaforma e andiamo a vedere i nostri criteri di ingresso. Come vedete qua ho evidenziato già un'operazione dove appunto il sistema va a lavorare. Queste indicazioni che vedi qua sul grafico, andiamo a fare un pochettino di zoom, ti danno l'idea di quello di cui stiamo parlando. Quale vogliamo come criteri di ingresso? Vogliamo che il prezzo sia superiore alla banda di Bollinger 1 e quindi in questa barra rossa come vedi c'è la chiusura che è maggiore ovviamente della banda di Bollinger 1 e quindi questo è la cosiddetta barra di setup. Il giorno dopo andiamo a fare l'acquisto. Infatti vedi che qua il sistema in questo caso con la freccina blu ci indica che all'apertura compra. Ok qui vedi questo segno perché questa è la chiusura di una precedente operazione sostanzialmente. In questo caso però questa candela coincide con la chiusura di un'operazione ma al contempo rappresenta anche per il sistema, per la strategia, il setup per comprare il giorno dopo. Quindi qui abbiamo il nostro ingresso, quindi prezzo, che chiude sopra la banda di Bollinger 1 il giorno dopo acquisto a mercato. Qual è il criterio di uscita? Non è nient'altro che la chiusura superiore alla banda di Bollinger 2. Quindi sostanzialmente ecco che il giorno dopo si verifica subito un gap up con una candela che addirittura è sopra la banda di Bollinger e allunga. Quindi come vedi appunto la volatilità si espande e chiaramente c'è un'esplosione, un allungo dei prezzi. Il giorno dopo chiaramente questa barra già ha chiuso sopra la banda di Bollinger 2 e il giorno dopo il sistema chiude l'operazione. Quindi qua abbiamo acquisto 9 azioni a 108 circa, a 108 e 81 e qui abbiamo la vendita di 9 azioni praticamente due giorni dopo a quasi 121 e 10. Quindi un'operazione che è praticamente durata 3 giorni. Quindi questi sono gli unici due criteri di ingresso. Quindi abbiamo visto in questo caso quali sono i criteri di ingresso. Sono veramente semplicemente due. Quindi prezzo che chiude sopra la banda di Bollinger 1 e per fare il nostro ingresso al mercato e poi l'uscita sia in perdita sia in profitto. E che il prezzo ovviamente chiude sopra la banda di Bollinger 2. Quindi sono operazioni mediamente che durano poco tempo e ovviamente ce ne sono numerose perché poi come vedremo nei test ci sono diverse diverse operazioni. Bene quindi ricapitoliamo abbiamo visto semplicemente quelli che sono i criteri di ingresso. Ricordiamo soltanto long quindi vogliamo che il prezzo chiuda sopra la banda di Bollinger 1 per andare a fare il nostro acquisto a mercato il giorno dopo. E poi vogliamo che il nostro prezzo chiuda sopra la banda di Bollinger 2 più alta quindi per andare a fare la nostra uscita. Quindi questi due criteri servono sia per uscire dalla posizione in guadagno e anche per uscire dalla nostra posizione in perdita chiaramente. Quindi in questo caso noi abbiamo parlato di quelli che sono i criteri di ingresso. Adesso andiamo a dire quattro parole molto semplici su quella che è la gestione del rischio e la gestione del capitale. Chiaramente lavoriamo sempre con un capitale di 10.000 dollari e per ogni trade che abbiamo eseguito il sistema eseguito è andata a comprare il 10% del capitale per cui su un capitale di 10.000 dollari abbiamo avuto un acquisto per ogni singola operazione del 10% che equivalgono a livello monetario a 1000 dollari. Quindi ogni trade compra 1000 dollari di un controvalore di azione quindi ad esempio se l'azione quota 100 dollari il sistema compra 10 azioni. E dopo aver visto quelli che sono i criteri molto semplici di gestione del rischio e gestione del capitale adesso è arrivato il momento di vedere i risultati per cui prendi carta e penna e preparati a segnare quelli che sono i tuoi titoli. Così facciamo il confronto con quella che è stata la mia lista sulla quale lavoro tutti i giorni per testare le strategie di trading. Passiamo quindi allo schermo e ovviamente prima di vedere i risultati non posso far altro che ricordarti che noi abbiamo un percorso personalizzato professionale molto specifico che ti porta da zero ad apprendere tutte le competenze di quella che è appunto l'analisi tecnica. E ti permetterà di testare le tue strategie imparare tutti i principi importanti dell'analisi tecnica ovviamente ti portiamo al livello di formazione per diventare un analista finanziario certificato appunto presso la SIAT la società italiana di analisi tecnica. E ovviamente con questo percorso sarai perfettamente in grado di crearti la tua strategia, testarla, lavorarla esattamente come ti sto mostrando in tutti questi video. È molto importante logicamente su quali titoli io vado a testare la strategia. Non ho creato per ogni strategia uno screener particolare perché più o meno ho bisogno all'incirca sempre di titoli che presentino volatilità. Quella che vedi qua in alto a destra è una delle mie liste preferite ovviamente non ne ho soltanto una ma questa è una di quelle che utilizzo di più. Sono tutte azioni ovviamente americane che sono ordinate un po' più o meno per prezzo e mi danno la possibilità in maniera molto molto rapida e molto semplice di andare a testare più strategie contemporaneamente, più idee di trading e mi danno la possibilità immediata di vedere quelli che sono i funzionamenti. Anche su azioni che hanno dei prezzi magari più alti e azioni che hanno dei prezzi più bassi, una capitalizzazione più piccola o una capitalizzazione più alta. Quindi sono aziende ovviamente con diversi business, diversi settori, diverse aree geografiche e anche ovviamente diverse capitalizzazioni. Ma adesso andiamo a vedere un attimino nel dettaglio quelli che sono i risultati. Bene, quella che vedi qui è chiaramente una pagina che ti mostra in tempo reale quelli che sono i risultati su ogni titolo. Diciamo che non ci serve guardare tutto nel dettaglio, ci sono alcuni dati che sono più importanti che saltano subito all'occhio. E' proprio su questi dati qui che voglio concentrarmi in questo momento. Dunque diciamo che qui sulla cifra in alto, che la vedi anche colorata di sfondo verde, puoi vedere immediatamente se la strategia ha prodotto un guadagno. Poi questo primo grafico a torta ti mostra l'accuratezza della strategia. Quindi ti sta dicendo per esempio che ha fatto 46 operazioni in tutto, 33 le ha chiuse in guadagno e magari 13 le ha chiuse in perdita. Questi dati mi danno un valore in percentuale che mi restituisce l'accuratezza. Quindi il 70% delle volte che io apro un'operazione con questa strategia su questo titolo mi produce un guadagno. Quindi questo ovviamente è un valore assolutamente molto molto alto che riesce a rendermi profitto. Nonostante che, altro dato molto importante, il rapporto rischio rendimento è inferiore a 1. In questo caso è 0,84. Cosa significa? Significa che ogni volta che io ho rischiato 1 euro ne ho guadagnati 0,80. E allora uno potrebbe dire ma come? Ogni volta che rischi 1 ne guadagni solo 0,8 quindi vai per forza in perdita. Non è vero fin tanto che ovviamente la mia accuratezza rimane su percentuali così alte perché ovviamente anche con un rischio rendimento inferiore a 1 io posso essere lo stesso in guadagno perché ho un'accuratezza molto alta. Quindi il 70% delle volte che prendo un'operazione questa mi va in profitto. E questo, questa situazione di un'accuratezza molto alta e un rapporto rischio rendimento magari anche inferiore a 1, non sarà sempre così ma ci sono delle volte che ovviamente la maggior parte sarà inferiore a 1, mi produce comunque un guadagno ed è proprio tipica delle strategie di breakout e di breakout sulla volatilità. Che lavorano ovviamente fanno molti più trade ma quelli che fanno sono accurati quindi sono quasi sempre vincenti e questo alla lunga ovviamente produce un risultato positivo. Quindi io non farò altro che andare avanti nella mia lista e tu adesso che hai imparato non ti resta che osservare i dati. E ovviamente per esempio qui subito abbiamo ci salta l'occhio addirittura che con un capitale di 10.000 dollari praticamente questa strategia su questo titolo in questo caso stiamo parlando di net ha prodotto 10.297 dollari per cui più del 100% solo su questo titolo con 60 operazioni di cui 40 sono state vincenti con un rapporto rischio rendimento di 1,38. Andiamo avanti ora ti mostro dei dati molto interessanti questa per esempio è molto interessante abbiamo un'accuratezza superiore al 70% quindi quasi vicino all'80 è un rapporto rischio rendimento di 0.46 quindi molto molto basso ma grazie ovviamente a un'accuratezza elevatissima siamo in grado comunque di produrre un profitto in questo caso vedi appunto 1275 dollari di profitto su questo titolo. Andiamo avanti vediamo con Carnival Corporation anche qui accuratezza del 70% rischio rendimento inferiore a 1056. Fubo un altro titolo abbiamo per esempio un'accuratezza inferiore questa volta al 70% siamo intorno al 62% ma rischio rendimento superiore a 1% quindi qui in questo caso è verde per cui nuovamente risultati positivi. Ancora profitto anche qui posso andare avanti e vi posso assicurare che praticamente su tutti e i 50 titoli su cui lavoro i titoli la strategia ha sempre prodotto comunque in un modo o nell'altro del profitto. Qual è la caratteristica che salta ovviamente sempre all'occhio? Beh che abbiamo sempre un'accuratezza che è in media intorno al 70% quindi se vedi il primo grafico qui a sinistra ogni volta che io cambio il titolo abbiamo quasi sempre un'accuratezza che è superiore al 70%. Quando in talunni casi è accompagnato ovviamente magari da un rapporto rischio rendimento molto molto alto ovviamente il profitto diventa decisamente importante. Ritorno un attimino nella schermata totale in breve poi in basso qui a sinistra vedi la quantità delle operazioni fatte sullo storico in cui è stata testata la strategia e qui a destra puoi vedere una equity del singolo titolo. Andiamo ancora avanti ci sono moltissimi altri risultati ovviamente non passerò tutti e 50 titoli anche se quasi quasi li stiamo vedendo tutti però è davvero interessante vedi come la percentuale di accuratezza è sempre sempre sopra il 70% e grazie a quell'alta accuratezza anche laddove c'è un rischio rendimento di 0,5 riesce comunque sempre a produrre del profitto. Quindi se guardi velocemente la barra qua in alto è sempre profittevole. Avevamo parlato prima del discorso del perché abbiamo deciso di non fare le operazioni short perché come sapete hanno un approccio decisamente diverso rispetto a quello che sono le operazioni long. E in questo caso con questa idea di trading l'operatività short non solo non aiutava la crescita della dell'equity ma in realtà la zavorrava per cui i risultati erano negativi e dove ovviamente la strategia comunque con le operazioni long andava in guadagno. In molti casi veniva assolutamente annullato mangiato quasi tutto appunto dall'operatività short e quindi in questo caso è stato essenziale chiaramente lavorare solo ed esclusivamente con un'operatività praticamente long. Quindi eccoci qua ebbene possiamo trarre delle conclusioni davvero davvero interessanti come hai visto qui ti ho mostrato un'idea di trading molto semplici con semplicissimi criteri di ingresso veramente due soli indicatori condizioni di ingresso molto molto semplici. Vedi che è riuscita a produrre ovviamente una grande accuratezza nonostante appunto un rischio rendimento basso e questo mi ha portato comunque ad avere dei profitti quindi questa idea di trading è assolutamente applicabile e migliorabile potrei aggiungerci davvero tantissime cose questa è una base è uno spunto così come tantissimi altri che ci sono stati sul canale. E dunque per questo ti raccomando di condividere questo video con i tuoi amici che potrebbero cercare un'idea di trading o una strategia di trading da dove partire magari questo video può essere davvero d'aiuto e di spunto e ovviamente lasciami qui nei commenti come sono andati invece i tuoi test quelli che hai fatto come compito per casa nello scorso video e noi ci vediamo al prossimo video un saluto ciao.